ciao a tutti ragazzi bentornati o eventualmente benvenuti sul mio canale innanzitutto voglio augurarvi un buon natale spero possiate passarlo con i vostri cari e vi auguro un inizio anno ricco di novità e soprattutto di successi tuttavia ho deciso di fare questo video per parlarvi di franklin in quanto grazie all'ultimo dlc uscito su gt online abbiamo avuto modo di capire tante cose su di lui il dlc the contract prevede due storie diciamo la prima l'ho un po portata sul canale grazie anche a delle live in pratica grazie all'aiuto di franklin e della sua agenzia dobbiamo ritrovare il cellulare di dr dr finito nelle mani sbagliate le missioni sono carine anche se molto simili alle solite missioni già presenti su gt online è davvero figo ascoltare nuova musica con dr dr in alcune canzoni addirittura sta eminem snoop dog e tanti altri ragazzi insomma raga se amate questi generi musicali amate il dlc poi lo stesso dr dr è molto cazzuto e sinceramente mi ricorda tipo mike tyson film di una notte da leoni cioè mi ha praticamente ricordato lui essendo così cazzuto e con la voglia di riavere magari la sua musica e nel caso di mike tyson non la tigre non so se vi ricordate tuttavia non sono qui per parlarvi delle missioni dei guadagni di come si guadagna eccetera eccetera anche perché ragazzi ci sono tanti altri youtuber che hanno già portato abbastanza contenuti su questo tema voglio invece focalizzarmi su franklin voglio focalizzarmi sul protagonista di questo dlc come sapete gt online a differenza di quando uscì il gioco ora è ambientato nel presente quindi ai giorni nostri e non più nel 2013 nel corso di questi lunghi otto anni si è scoperto che franklin con i soldi ricavati dalla rapina alla union depository con michael e trevor li ha investiti per creare un'agenzia molto grande allo santos stiamo parlando della f clinton and partner un'agenzia creata per risolvere letteralmente problemi ai ricchi andando anche a sporcarsi le mani l'agenzia è maestosa franklin è passato da essere un gangster di strada a grande imprenditore di successo ai segretari degli uffici hacker che lavorano con lui attrezzature particolari forse ma non ne sono sicura anche inventato dei nuovi energy drink perché ragazzi quelli che troviamo all'interno dell'agenzia non credo di averli mai visti in altre parti nella saga di grand theft auto comunque è stato bello anche rivedere chop più invecchiato ovviamente ma sempre cazzuto la cosa divertente è che chop nell'agenzia si sposta sempre e ogni volta lo troviamo in posti differenti per esempio qualche volta l'ho ritrovato nel mio letto mentre dormivo una cosa interessante che ci ha fatto notare rockstar informer è il quadro che nel 2013 diceva lo santos ti possiede e ora tu possiedi lo santos per dimostrare proprio la carriera sudata di franklin e il ruolo che oggi possiede infine lo stesso lamar in quanto anche lui è diventato imprenditore o definiamolo anche startupper in quanto sta cercando di finanziare la sua impresa specializzata nella produzione e distribuzione di erba insomma tutti i pezzi grossi e imprenditori oggi su gta di questo dlc ho apprezzato anche alcuni easter eggs come la famosa citazione di lamar o di cj hasher here we go again non so se avete presente ci sono addirittura anche riferimenti a michael ma ne riparliamo tra poco tuttavia dopo aver completato le missioni per dr dream avrete accesso allo studio radiofonico e qui è presente una stanza per fumare all'interno della quale si può ovviamente fumare anche l'erba in questa stanza avviene la figata perché fumando la canna speciale molto probabilmente prodotta da lamar potrete avviare delle missioni in due in cui vi metterete nei panni di franklin e lamar esatto raga se siete gli host della partita giocherete nei panni di franklin oppure se state aiutando qualche vostro amico sarete nei panni di lamar queste missioni hanno lo scopo di aiutare appunto lamar con la sua impresa di cannabis eliminando la concorrenza dei vagos tuttavia la cosa particolare è che da queste missioni possiamo notare che franklin ora una vera e propria famiglia esattamente ragazzi franklin è diventato papà ora qui mi viene da sorridere perché so che tutti da quando è uscito gta 5 nel 2000 nel 2013 sono cresciuti me compreso e alcuni sono anche diventati papà spesso mi è capitato di leggere nei commenti qualche mio iscritto che ha detto guarda quando è uscito gta 5 era un ragazzino adesso sono diventato papà è lavoro quindi da piccoli ragazzini oggi molti di voi hanno un lavoro una famiglia e lo stesso ragazzi anche franklin in particolare franklin si è sposato con tanisha presente anche nel single player tanisha è cresciuta con franklin e lamar o lamar a south los santos tra l'altro la zia di franklin abita ancora lì ma penso che comunque ora stia messa molto bene economicamente grazie ovviamente a franklin nel single player il rapporto tra franklin e tanisha non era ottimo se vi ricordate infatti potevamo notare spesso i due litigare e addirittura alla fine della trama indipendentemente dal finale scelto dal giocatore tanisha chiama franklin per informarlo del suo matrimonio il giorno seguente franklin malauguratamente lo accetta e augura il meglio a tanisha però con questo dlc abbiamo scoperto che lei ha poi sposato anche franklin che sia stato lui ad inseguirla per amore o lei questo purtroppo non lo sappiamo anche se è una teoria io ce l'ho tuttavia nel dlc non compare né lei anche se viene citata e nei suoi bambini ma se andate in freemode a visitare la casa di franklin noterete alcune cose interessanti oltre alla nuova auto di franklin è possibile trovare anche una nuova auto di tanisha la pfister astron con il suo nome sulla targa e nel suo cortile si possono trovare giocattoli per bambini uno scivolo di plastica e diversi salvagenti palle diciamo per giocare in piscina suggerendo che i due hanno avuto appunto dei bambini tra il 2013 e il 2021 lo stesso franklin cita i suoi figli all'interno delle missioni che figata pazzesca ragazzi franklin papà altra cosa figa è che ora è possibile trovare anche una targhetta sulla villa con scritto clintons suggerendo appunto che in quella casa ora vi è una famiglia tuttavia devo essere sincero non mi fido molto di questa relazione tanisha infatti è sempre stata una donna ipocrita poiché nel single player criticava franklin il quale era disposta a rinunciare alla sua vecchia vita e suoi amici alla ricerca di una vita più lussuosa e questo fu uno dei motivi per cui si lasciarono la prima volta quando poi lei ha fatto esattamente la stessa cosa per esempio si stava sposando un ricco dottore e addirittura andò a pubblicare sulla sua pagina di life invader che sarebbe appunto la diciamo facebook della saga di gta in cui lei pubblicava appunto la sua felicità in merito a questa sua nuova vita con questo suo dottore ma sappiamo che tanisha poi è tornata da franklin e spero vivamente che non l'abbia fatto per soldi almeno lo spero per franklin perché comunque franklin poi si è arricchito lei già si era sposata con un uomo ricco che era appunto questo dottore poi franklin si è pure arricchito quindi io spero lei non sia tornata da lui proprio perché ha visto che franklin si era ormai realizzato fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se questo genere di video vi piaccia ho intenzione anche di farci un video su trevor e michael ricordandovi che nel vero finale quello ufficiale entrambi sono vivi ok anzi voglio darvi un'informazione molto importante su michael uscita proprio con quest'ultimo dlc durante la prima missione per dr dream quando inseguiamo quei tizi con le auto da golf passiamo dal richard majestic studios e franklin dice questa frase amico merda conosco uno dei produttori qui intorno spero che il suo culo non sia lavoro oggi sta parlando ovviamente di michael de santa quindi michael è ancora vivo e lavora come produttore associato per solomon richards al richards majestic studios quindi anche lui ha realizzato praticamente il suo sogno nel mondo del cinema che figata vero comunque ragazzi spero che questi easter eggs vi siano piaciuti come al solito aspetto i vostri commenti qui sotto grazie come sempre per il vostro supporto noi ci vediamo al prossimo video vi auguro nuovamente vi rinnovo nuovamente gli auguri di buon natale e di fine anno noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti